Umberto Sarnini, lavoratore di Villa Borrespiro, dicevamo prima sazio, perché? Di questa situazione, primo perché diciamo chi è che ci governa, adesso attualmente i tecnici, i cosiddetti tecnici, di tecnico non c'hanno niente perché se mettono mano e fanno tagli sulla sanità e qui non ci possiamo permettere più nemmeno di stammare e questo è quanto risulta. Qui i pazienti più giorni passano e meno ci avranno, al di là del discorso nostro che stiamo lavorando senza stipendio e il futuro non è rosio. Ricordiamolo, da quando dovete ricevere lo stipendio? L'ottobre non l'abbiamo preso, ci ha detto già che a novembre e dicembre lavoreremo gratis. Poi ricordiamo che sono dei ragazzi che hanno dei problemi particolari e quindi... Tutti i pazienti che comunque hanno anche problemi psicologici, non è che stanno solo diciamo su una sedia a rotaello, quindi è un lavoro particolare. Che richiede quella serenità che ora vi manca? Che richiede una serenità per poterlo svolgere bene, primo, perché anche i ragazzi stessi se ne accorgono quando noi non siamo sereni, perché poi si ripercuote per quanto uno può essere professionale, comunque con i ragazzi poi ci deve stare tutto il giorno. Lei da quanto tempo lavora dentro Villa Borrespiro? Diciamo fisso, sono 12 anni fisso, ma le prime volte che sono stato qui è dal 1980, quindi non è che facevo dei lavori, poi piano piano le sostituzioni, poi sono entrato fisso con un assistente. Quindi un rapporto anche familiare con i pazienti sessorali? Mi sono portati a casa alcuni pazienti, quindi io so come fossero i miei figli e mi dispiace, mi dispiace, non si lavora così insomma. Cosa chiedete adesso quindi all'azienda e alle istituzioni? All'azienda prima di tutto di non fare tanti giochi, perché se loro guadagnano devono anche pagare il personale. Se loro pensano che ci stanno rimettendo, chiudessero, ci mettiamo l'animo in pace, perché così non si può lavorare. Perché io devo lavorare, non so se sarò licenziato, se sarò pagato, oltretutto magari se faccio una stupidaggine ho pure retarguito. Non è che dici, sa, beh non ti paghiamo, però ti diamo la soddisfazione di se sei stato professionale o se sei stato qui, siamo numeri, punto. Quindi anziché una lenta agonia, dice almeno, una soluzione drastica. Esatto, parlo così io perché sarà pure che ho una certa età, però non se ne può più insomma. E questi ragazzi che fine faranno? I ragazzi, i ragazzi è un discorso serio, perché molti come hanno detto già non hanno più nemmeno famiglia. Non si sa che fine faranno, magari gente che è di Viterbo, di Vetralla verrà sbattuta, non lo so, a Rezzo, a Milano, dove ci sono altre strutture. Perché queste non è che sono pazienti che possono essere messi in una clinica qualsiasi o in un ospedale qualsiasi. Domani faranno un sit-in di protesta. Voi come i lavoratori farete qualcosa del genere? Ma come no? Adesso qui è stato detto che bisognerà cominciare a fare macello a macello in Viterbese. A farci sentire giù in comune dal prefetto, dal sindaco, dai vari politici, perché non se ne può più. Non se ne può più. Non si può sempre mettere tutto sulle spalle dei lavoratori. Noi altri prendiamo lo stipendio di sette anni fa, non ci sono stati mai adeguamente del contratto. Lei lo sa quanto è aumentato il costo della vita. E quindi insomma via. Benissimo. Grazie. Prego.